Come lucidare gli infissi in alluminio opacizzati? Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973 e ci occupiamo di abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi voglio rispondere a questa domanda perché ti puoi trovare in una situazione in cui i tuoi infissi non sono stati puliti da tanto tempo, sono vecchi oppure la vinciatura non è stata fatta nel modo migliore, abiti in una zona molto aggressiva quindi la superficie è rimasta opacizzata. Io sono di Cesena, quindi vicino alla zona marittima, tutti gli albergatori prima di prima stagione davano l'olio di vaselina sopra gli infissi perché li faccia tornare un po' nuovi, soprattutto nelle vinciature non nelle vinciature ma nell'ossidazione. L'olio di vaselina funziona abbastanza per questo tipo di operazione, però ha il problema che poi si appiccica sopra un sacco di polvere perché rimane molto unto. Una soluzione migliore di questa è quella di utilizzare uno scorri cavo silicone che tu puoi comprare tranquillamente in ferramenta, in delle bombolette spray, lo spruzzi sopra il profilo con un panno lo vai a spalmare sopra e lui dona lucentezza al tuo infisso se questa tecnica che ti ho insegnato non è sufficiente probabilmente gli infissi sono ormai obsoleti, è ora di sostituirli perché un infisso in alluminio non si può riverniciare come si fa con un infisso in legno e quando bisogna cambiare gli infissi bisogna chiedere dei preventivi quando si chiedono dei preventivi non si capisce niente perché ognuno tirerà l'acqua al proprio mulino. Infisso è un argomento molto difficile e per questo ti posso aiutare attraverso la consulenza con Sistema Misaki puoi richiedere la tua consulenza personalizzata su www.blogmisaki.it Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!